con mio fratello l'ultima volta che rimane un ricordo abbiamo era lì dopo dopo il rastrellamento del 44 la luna le stelle parlavano d'amor questa canzone qui o che bel fiore o che bel fiore così via che era di voga allora cantava la radio quei tempi lì insomma ecco la luna le stelle parlavano d'amor o che bel fiore che proprio con questa motivazione insomma ecco e ti dirò che fu anche l'ultima volta che avevamo cantato perché dopo morì proprio lì a ligonchio nella casa lì vicino alla casa dove ho preso moglie dopo ho conosciuto mia moglie e cosa si faceva da via una pulita le armi qualcuno aiutava a fare da mangiare l'altro andava a prendere l'acqua e poi alla sera si discuteva anche come si poteva adesso quando c'erano i commissari i commissari politici che poi allora si ascoltavano ma riguardandoli poi dopo la guerra così poveretti anche loro sapevano quello che sapevano insomma ecco il commissario si come nome però come capacità come cultura politica insomma era un po limitata insomma bisogna bisogna riconoscerlo ecco ecco io la mia vita non non riuscirei a farla da un'altra parte sarebbe molto duro ecco proprio e l'ho vissuta così anche durante la guerra insomma abbiamo dormito anche nei faggi con le foglie per me è stato anche bello un'esperienza ho anche capito per esempio guardando il consumismo di adesso con quante poche cose possa vivere un uomo davvero proprio quando vedi botteghe che scoppiano le case che non sanno più dove mettere la roba in fondo quando c'è una vorraccia d'acqua è un pane è un po di formaggio eri forte che come adesso anche di più che bisogna dal dottor perché mangia troppo insomma ecco io ho avuto una grande cultura dalla resistenza anche dalla guerra insomma ecco direi che l'antifascismo vero direi che poi è maturato anche dopo la guerra perché poi matura con la coscienza che poi trovi che che il fascismo un guerra messo con quelli che avevano le armi in mano ma se lo ce lo siamo ritrovati poi nel 45 46 e quando il movimento sociale e quando l'uomo qualunque comincia a organizzarsi e con la veste fascista capisci e allora proprio nasce bisogna che creiamo perché sono ancora qui all'ampia reggio proprio per resistere bisogna che creiamo un tessuto tale che il fascismo non passi più ecco da qui direi che siamo maturati più nel dopoguerra che durante la guerra dal punto di vista dell'antifascismo insomma ecco